Dal palco della festa dell'unità c'è un'apertura da parte del Premier Conte su MES. Lei che cosa mi dice? Mi sono stufato di queste aperture, chiusure, aperture e chiusure. Del MES abbiamo bisogno, sono 37 miliardi, dobbiamo rifare la nostra sanità, dobbiamo rifare la nostra scuola, i soldi sono disponibili subito, non ci sono condizionalità. E basta Conte, e basta Gualtieri. Tanto poi i soldi li prenderemo. E sarebbe caso che dicessero fin da subito, sì, e che lo dicessero in Parlamento, senza tanti giochetti, ma glielo ho già detto in Parlamento con questo tono, avete stufato con questo giochetto in politichese, avete stufato. Quindi Forza Italia voterà compatto con il PD su MES? Non compatto, il PD voterà compatto con Forza Italia.